Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store. Via Piano Dardine 15 a Tripanda. L'identikit del nuovo commissario, per certi versi, è già noto. Dopo Sbriscia e Guercio, rispettivamente nel 2003-2004 e a cavallo tra il 2012 e il 2013, sarà ancora una volta un prefetto, in attesa di collocazione, a guidare le redini del comune di Avellino, ad affiancarlo quasi sicuramente dei subcommissari provenienti dalla locale prefettura. La nomina dal ministero è attesa ad ore. Non è escluso che colui o colei che guiderà il capoluogo fino alle elezioni attese per maggio non si insedi già in settimana a Palazzo di Città. Al di là del nome, è chiaro già cosa il commissario dovrà fare. L'ordinaria amministrazione, con i poteri che sono generalmente di sindaco, giunta e consiglio. Ma la situazione avellinese è tutt'altro che ordinaria. A cominciare dai conti, finiti al centro della polemica politica, dissesto sì oppure no. Sarà il primo nodo che il commissario dovrà sciogliere, avendo dalla sua il parere contrario del ragioniere capo ed in arrivo il parere dei revisori dei conti. Col dissesto i creditori si vedrebbero dimezzate le fatture, le aliquote delle tasse sarebbero portate al massimo, ma difficilmente si riuscirebbe a fare altro. Si pensi al Natale, cheppure ha bisogno di una variazione di bilancio. Le anticipazioni di cassa già ci sono, e tuttavia col dissesto difficilmente ci sarebbero iniziative di grido. Con un piano di rientro pluriennale o predissesto, il commissario invece potrebbe agire. Dai conti e dalla loro gestione dipenderà la linea con cui agirà il commissario, la figura chiamata a far camminare la macchina comunale nell'attesa delle elezioni. Il dopociampi è già cominciato, la campagna elettorale sui social pure, ma è prematura al momento qualsiasi ipotesi, che pure circola in sei mesi può accadere ancora tutto il contrario di tutto.